Allora eccoci qua ragazzi, piccolo registrato. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grande novità, grande novità. Grande novità a partire da domani mattina, perché Ianto lo sta finendo, siamo là. Stiamo finendo gli ultimi preparativi, da domani sarà pronto. Finalmente dopo un anno di attesa doveva uscire il famoso lancillotto. Esatto, questo è praticamente la stessa cosa, ma addirittura forse pure meglio. Forse questo è meglio, anzi sicuramente è meglio. Allora, grande iniziativa di due colossi dell'otto, ovviamente cercheremo di darvi il meglio su questo mensile che vi ripeto esce una volta al mese. Esatto. L'abbiamo fatto perché sempre per far risparmiare i nostri amici che ci seguono, perché ovviamente se ne faceva uscire uno io, ne faceva uscire uno Salvo. Esatto. E allora poi invece abbiamo unificato le forze, abbiamo detto, anzi il grande amico Salvo ha detto, senti Mauri facciamo sta cosa uguale per tutti, uguale per tutti. Due scuole di pensiero che si fondono e creano un qualcosa di incredibile sia per gli amanti dell'otto e attenzione ragazzi, sia per gli amanti del dieci e l'otto. Ci sarà tutto, tutto. Esatto. Previsioni, metodi iteroperativi e addirittura troverete, a grande richiesta, troverete la strategia, la nuova strategia personalizzata di Maurizio 40 per il dieci e l'otto a fascia oraria, addirittura... non vi dico lì, non vi dico altro. Non dire niente, non dire niente. Allora cosa c'è in questo giornale che l'abbiamo chiamato lotto tuo? Perché lotto tuo è tutto un nome e una garanzia. Esatto. Allora all'interno trovate, beh, intanto le tecniche inedite del grande Badessa, le tecniche inedite che stanno sfornando veramente ambi, terni e quaterne, tecniche che vi danno anche il tempo di giocarla perché una è a inizio mese e una dopo sette, otto colpi di gioco. Perciò e ogni mese qua il grande salvo sfornerà delle tecniche riservate per lotto tuo. Dopo ci sarà, oltre a queste due bellissime tecniche inedite, ci sarà la previsione di Badessa, la previsione mia e si parla di un ambo e poi il dieci e l'otto. Per gli amici del dieci e l'otto abbiamo accontentato a tutti, abbiamo messo la fascia oraria, una alla mattina e una al pomeriggio. Così chi va a giocare magari dici fammi vedere un attimo che fascia oraria, cioè adesso si può giocare. Infatti sono quelle selezionate proprio dal capitano perché sono quelle che danno più garantie di successo, quindi non si spende nemmeno tanto perché sono due fasce orari al giorno, quindi non è che sono tutte, sono state accuratamente selezionate proprio per evitare spreco di risorse inutili. Esatto. Allora, potete ordinarle, potete prenotarlo, potete acquistarlo o al 348 1691856 o al 3206781428 o contattare Yantolo. È indifferente a chi vi rivolgete e vi rivolgete, non importa. È tutto, noi siamo, è tutto unito, perciò state tranquilli, non vi dovete preoccupare ma io lo prendo da salvo, ma lo prendo da... Da chi volete prendere, prendete. Questo è il nuovo progetto 2022, iniziamo con gennaio 2022, si può acquistare già da domani mattina e ovviamente c'è già una bellissima tecnica da mettere in gioco già venerdì. Perciò ragazzi, questo è il nuovo progetto Badessa40. Lotto tuo da domani non sarà in edicola e la cosa bella che uscirà anche una volta al mese. Esatto. E ovviamente lo potete trovare soltanto, soltanto, mandando un messaggino su WhatsApp a questi due numeri. Questo è solo l'inizio. Oppure lo troverete semplicemente andando sul nostro sito web, per esempio, chi vuole acquistarlo da noi lo troverà sul nostro sito web, 40sfondaturadilotto.com. Ovviamente chi è con salvo ovviamente può acquistarlo, mandando un messaggio al 348 1691 856. Dai due colossi dell'otto e del mago del web, cioè il nostro Iantolo, questa è la novità. 2022 è come diceva il Gran Corrado e non finisce qui. Siamo solamente all'inizio ragazzi. Eh, da Badessa il capitano Iantolo è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.